cari amiche e amici buongiorno oggi un piccolo compendio di quello che può essere molto utile per i vostri ascolti musicali e per i vostri acquisti in vinile lo vediamo dopo la sigla bene probabilmente lo avete visto girare nell'arredamento della stanza già da qualche tempo sto parlando di questo bel tomo qui questo questo tomo che nella traduzione italiana si intitola mille un dischi i capolavori della musica pop rock internazionale a cura di robert dimmeri un noto giornalista britannico purtroppo come spesso cade agli italiani specie nella traduzione dei film anche in questo caso siamo andati un po lost in translation perché perché in realtà il libro originale si intitolava 1001 album you must hear before you die devi ascoltarli prima di morire non i capolavori della storia musica internazionale ok mi viene in mente un po quello sketch della targhetta del treno di joelle dix che diceva la faccio breve in inglese dice do not lean out in tedesco dice nicht hinaus lehnen in francese dice ne pas sei ponchet au dehors in italiano dice è pericoloso sporgersi ecco in questo caso 1001 album you must hear before you die quelli che devi ascoltarli prima di morire non il capolavori della musica poi tu scegli quello che vuoi no dovete ascoltarli ok allora io lo uso molto come compendio questo tomo comprato anche in realtà la versione inglese che non ho qui in questo momento cielo a milano però a questa copertina e ne usiste anche una versione kindle perché devo dire la verità che portare questo tomo in spiaggia può essere piuttosto pesante però quello che è carino fare e io consiglio di fare è sempre questo usare la stessa stregua anche un servizio di streaming anzi usarlo insieme quindi diciamo così selezionare un album leggere quello che questo libro dice di questo di questo album quindi appena avete selezionato l'album lo cercate nel vostro servizio di streaming a cui siete abbonati o su youtube se non siete abbonati che tanto lì c'è tutto comunque gratis magari non è bellissimo ma è così quando lo ascoltate e se vi piace potete ordinare il vinile e vedrete che così facendo scoprirete dei dischi di cui ignoravate l'esistenza ma che sono fondamentali per la storia della musica e non solo ritroverete alcune sonorità in quei dischi che avevate ignorato in album successivi nei vostri autori preferiti nei vostri artisti preferiti quel riff di chitarra quel passaggio quella batteria quel basso scoprirete che anche voi non potrete più fare a meno di questo grazie a tutti 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 Grazie per la visione